Pedala anche tu con il commissario tecnico della nazionale italiana nella gran fondo Davide Cassani. La classicissima d'apertura del calendario master a sostegno del ciclismo giovanile. Due percorsi con partenza e arrivo nella centralissima piazza del popolo a Faenza. Con i proventi della gran fondo il pomeriggio viene organizzata una gara riservata alla categoria juniores, il futuro di questo sport. Sfida te stesso sulle strade dove si allena il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani. Natura, storia, passione, divertimento e il sostegno al ciclismo giovanile. Tutto questo è la gran fondo Davide Cassani. Tutto questo lo fa